L'associazione Robinhood di Teramo lancia un allarme riguardo una serie di visite porta a porta da parte di individui che si fingono operatori di Enel Energia. Questi falsi operatori pongono domande agli utenti sulla colorazione delle loro bollette elettriche, un dettaglio non trascurabile poiché le bollette in bianco e nero sono associate al Servizio Elettrico Nazionale, legate quindi alla maggior tutela fino a giugno di quest'anno per alcune categorie, mentre le bollette colorate appartengono al mercato libero. Abbiamo avuto ieri una serie di segnalazioni di persone che passano nelle case, chiedono di vedere la fattura e soprattutto dicono questo, se lei ha una fattura non colorata allora sappi che deve fare il nuovo contratto perché è fuori reggi, l'hanno pure scritto nella fattura che deve fare delle comunicazioni che lei evidentemente non ha fatto e quindi dobbiamo fare il nuovo contratto, niente di più falso. L'associazione sottolinea che questa tattica non solo ingannevole ma potrebbe anche risultare pericolosa specialmente per quegli utenti meno informati o più vulnerabili alle pressioni esterne. È fondamentale che i cittadini siano consapevoli di questi tentativi di truffa e che verifichino sempre l'autenticità degli operatori che si presentano alle loro porte. Il servizio di maggior tutela come tutti sappiamo il governo l'ha abolito quindi dal 1 luglio per quanto riguarda il servizio elettrico si passa a coloro che stanno nel mercato di maggior tutela e passano nel mercato graduale. Per alcuni soggetti tipo quelli che percepiscono il buono sociale, gli ultra 75 anni, coloro che sono presso i MAP, coloro che utilizzano l'energia elettrica per apparecchiature medicali o dobbri, il cosiddetto salva vita, questi soggetti in pratica rimangono nel mercato di maggior tutela. Quindi per questi soggetti non finirà il mercato di maggior tutela. Che cos'è il mercato di maggior tutela? Il mercato di maggior tutela è il mercato dove le tariffe vengono stabilite dall'autorità e nel corso di questi anni sono state sempre le tariffe migliori e più vantaggiose. Per questo motivo l'associazione Robin Hood invita gli utenti a non fornire informazioni personali o aderire a nuovi contratti senza aver prima effettuato controlli approfonditi. Inoltre raccomanda di segnalare immediatamente alle autorità competenti qualsiasi attività sospetta, contribuendo così a proteggere la comunità da queste frodi. Sì assolutamente, anche la società come l'energia ed altre dicono sempre che non lo mandano persone in giro. Quelle persone che vanno in giro sono tutti quanti riferibili a delle agenzie che sono magari anche partner di società di vendita dell'energia elettrica e del gas ma che agiscono in modo autonomo.